Una delle risorse che ci stanno a Campoli, perché fondamentalmente Campoli è un paese agricolo, artigianale, laddove la ciliegia è una delle risorse finanziarie per le attività agricole ed è uno dei prodotti un fiore all'occhiello in quanto è una ciliegia nutrizionale. Il territorio è costituito prettamente da collina in modo tale da far fruire l'acqua al di sotto delle piante e far sì che la ciliegia non assuma molta acqua. La caratteristica è che è una ciliegia molto succulente e nello stesso tempo nutrizionale. Il minimo deve venire a degustare la ciliegia perché poi sono sorti altre iniziative come la marmellata di ciliegia e lo sherry da attività artigianali locali.